va bene ecco la rinona e streaming dal vivo su youtube va bene allora buonasera a tutti siamo qui alla nuova incontro della società entomologica italiana del secondo ciclo di incontri questa sera avremo con noi il collega stefano vanin dell'università di genoa entomologo forense che ci parlerà di testimoni a sei zampe l'entomologia forense in italia un tema ben diverso da tutti quelli che abbiamo trattato come avete visto nel ciclo di seminari abbiamo cercato di rappresentare varie tematiche in altre ne rappresenteremo con l'occasione per ricordare che le prossime i prossimi incontri saranno il 9 di febbraio con un collega toma dell'istituto superiore di sanità che parlerà di zanzare poi il 3 di marzo recupereremo un incontro col collega badano che non era stato effettuato in precedenza e il 24 di marzo questi sono i prossimi insomma la collega zappala di catania che ci parlerà di aspetti di entomologia applicata all'agricoltura quindi manteniamo questo diciamo variegata rappresentazione degli aspetti dell'entomologia italiana quindi invito intanto stefano a iniziare la sua presentazione voglio anche salutare tutti quelli che sono in presenza all'università genoa studenti e colleghi che sono in presenza è una novità che ha introdotto ecco saluti a tutti che ha introdotto stefano per la prima volta che magari cercheremo anche di nuovamente di diciamo mettere in atto nelle prossime in altre riunioni se sarà possibile dicevo appunto queste iniziative continueranno almeno in questo ciclo fino anche quest'anno se avete esigenza di vedere i prossimi incontri vedrete sul sito della nostra società tra l'altro vi segnalo il sito un pochino in questo momento un pochino poverello perché lo stiamo rifacendo da capo non è stato ancora messo in attività il nuovo sito da parte della società che sta lavorando ci ma insomma le informazioni essenziali anche per questi seminari chi avrà interesse a vedere i prossimi può vederli sul sito nostro della società entomologica italiana allora prego stefano ti prego di iniziare la tua conferenza io mi azzittisco e se riesco qui a farlo e chiudo disattivare allora intanto intanto un grazie alla società entomologica italiana ai soci qui presenti i soci che sono a casa un grazie a chi è venuto in presenza un grazie a chi è online oggi il titolo del seminario di oggi che durerà circa un'oretta è tratto in parte da quella quella frase del grandi che definisce gli insetti un mondo di occulti dominatori e da occulto dominatore a silenzioso testimone il passo è abbastanza breve per cui a me piace pensare agli insetti proprio come dei testimoni ma non solo gli insetti in scena del crimine possono essere anche i batteri e le piante che ci possono svelare quello che è successo in un caso per l'appunto criminoso io so che si sono collegati da casa anche molti studenti degli istituti superiori e penso che la maggior parte delle persone non si sia collegata di sicuro per il sottoscritto pochi di sicuro per il termine entomologico a parti soci della 6 ma la maggior parte si è collegata per se la slide va avanti per questo fondamentalmente tutti noi molti di noi alla sera stanchi da una giornata di lavoro o di studio si guardano questi bei telefilm che hanno portato nelle case di tutti l'idea e i concetti di prova scientifica quindi prima di loro c'era Sherlock Holmes o l'ispettore Colombo che ci parlavano di crimini e come riuscire in qualche modo a risolverli con queste serie televisive di natura di origine americana abbiamo proprio cominciato a capire che esistono degli elementi di una scena che sono misurabili magari non sono misurabili oggi lo saranno con la tecnologia tra dieci anni che costituiscono delle tracce del passaggio di qualcuno in quel contesto oppure ci raccontano di azioni di qualcuno in quel contesto però la cosa bella e pochi magari ci hanno pensato tra tutti questi il più bello di tutti siccome abbiamo qui una platea di studenti posso permettermi la parola il più fico di tutti è lui ed è Grisson Grisson che coordina per l'appunto uno di questi laboratori di CSI e che è un entomologo quindi anche queste serie hanno posto l'attenzione sull'entomologia forense come una disciplina fondamentale per la ricostruzione mi piace usare questa parola più che risolvere ma per ricostruire gli eventi del passato quindi noi ci troviamo in un momento storico in cui discipline diverse di natura naturalistica e biologica come possono essere la botanica l'antropologia e la biologia vengono incontro agli investigatori per ricostruire gli eventi nell'immaginario di tutta la di tutti la prova regina è il dna il dna qualche volta funziona qualche volta non funziona qualche volta c'è e qualche volta non c'è ma soprattutto il dna da una risposta la risposta la domanda chi la risposta la domanda quando o dove difficilmente viene data dal dna quindi cambiamo la domanda qui dobbiamo dare una risposta tutti i soci della sei ma non solo tutti gli etomologi sanno che gli animali sono tanti ma gli insetti sono gli animali o meglio gli artropodi direi che lo sapete l'ottanta per cento dei degli animali del regno animale è rappresentato da specie di artropodi e il 73 per cento sono insetti e perché è importante questa osservazione è importante perché non ci stupisce il fatto che li troviamo ovunque quindi li troviamo in ogni posto dove sia passata una persona lì in qualche modo gli insetti c'erano già e c'erano già da tanto non me ne vogliano i colleghi ma secondo me per avere una laurea in entomologia bisogna un diploma più che una laurea sarebbe importante ricordarsi questi tre punti gli insetti sono tanti ma hanno biologie diverse quindi hanno tempi di sviluppo diversi hanno modalità di sviluppo diversi hanno anche capacità di sopportare le condizioni ambientali diverse gli insetti sono ovunque ma ma hanno specificità d'habitat la mia amata chionea la mosca delle nevi la chionea dolomitana la trovo nelle dolomiti di sicuro non la trovo in sicilia sulle pendici dell'etna come pure una specie tipicamente sinantropica difficilmente la troverò in aperta campagna laddove l'uomo non abbia comunque costruito un edificato diffuso rovinando il paesaggio come è successo in pianura padana gli insetti ci sono sempre ma hanno una loro fenologia ovvero hanno una loro stagionalità lo sappiamo tutti difficilmente alle nostre latitudini le zanzare ci pungono d'inverno anche se con introduzione nuove specie sta cambiando anche questo assioma e questa è una cosa importante perché vedremo anche l'entomologia forense e abbiamo un esempio proprio qui a genova è stata è e viene continuamente influenzata di queste da queste variazioni ambientali così evidenti poi c'è qualcuno che le nega però dato di fatto gli insetti ce lo raccontano ed è estremamente oggettivo ma andiamo al core al nodo centrale della questione che cos'è l'entomologia forense l'entomologia forense è una scienza applicata e non è nient'altro che l'applicazione di tutte le conoscenze che noi abbiamo sugli insetti ed altri atropodi che in qualche modo possono venire incontro alle ai quesiti degli investigatori questa si applica sia al diritto civile che al diritto penale diritto civile c'entra con i rapporti tra le persone tra i contratti ma anche comprare qualcosa da qualcuno è un contratto e se tu mi vendi un qualcosa di infestato abbiamo un problema e dall'altra parte con la componente penale e l'esempio classico per l'appunto quello come vedremo tra un istante dell'entomologia forense di stampo medico veterinario legale allora dividiamo in tre grandi branche branche scusatemi l'urbana insetti che infestano le abitazioni i luoghi dove l'uomo vive l'entomologia forense delle derrate alimentari comprate del cibo che è infestato e questo per legge non deve e non può essere infestato e quindi potete rivalervi su chi ve l'ha venduto il quale comunque entrerà all'interno di un procedimento e poi abbiamo quella di cui parleremo oggi che viene definita come medico veterinaria legale o criminale che abbiamo fatto il salto mentre fino a qualche anno fa pensavamo e focalizzavamo la nostra attenzione sull'uomo quindi sui crimini contro la persona adesso usiamo l'entomologia forense anche per riuscire a contrastare i crimini contro la fauna sia essa selvatica ma anche contro i pet e i nostri animali di affezione. Se guardate un po' la storia dell'entomologia forense troverete in tutti i libri questa storiella che è accaduta in Cina in cui un contadino viene ucciso nella campagna arriva il magistrato di turno chiede in giro ma nessuno ha il colpevole fa deporre il falcetto davanti ai singoli contadini e su uno di questi arrivano le mosche che annusano le tracce di sangue non visibili ad occhio nudo e poi come è scritto in questo testo vi ho messo la versione giapponese che è più semplice viene giustiziato con lo stesso falcetto ma qua siamo a livello di aneddotica. L'associazione tra insetti e cadavere umano la ritrovate in tutti i testi sacri e in numerosissime rappresentazioni grafiche. Queste sono due tombe scolpite di epoca diversa centinaio di anni di differenza di due contesti geografici diversi uno alla Germania e uno all'Inghilterra ma gli autori in tutti i casi rappresentano il cranio completamente scheletrizzato con delle larve poi l'artista le trasforma in una delle due immagini quasi a serpenti e poi vedete l'addome che è esploso con delle larve che escono da lì e questo è un chiaro segno che chi ha fatto queste rappresentazioni aveva visto un cadavere in decomposizione colonizzato dagli insetti perché la colonizzazione parte dalla testa e scende poi a livello addominale e una volta rottisi i tessuti abbiamo la fuoriuscita delle larve ma il titolo della mia presentazione è l'archeontomologia scusate l'archeontomologia forense in Italia. Allora andiamo a vedere qual è il primo italiano che in qualche modo ha piantato la bandiera per dire o meglio ha piantato le basi su cui si fonda questa disciplina e questa le basi le ha messe giù il buon Francesco Redi alla fine del 1600 con la confutazione della teoria della generazione spontanea. Se non ci fosse stato lui nessuno avrebbe immaginato che le mosche o meglio i vermi come vengono chiamati anche in alcuni giornali questi giorni compaiono i vermi al posto di larde si sviluppano sulla carne ma perché perché c'è una mosca che è andata a deporre su quel tessuto ma se guardate questa cosa è stata smantellata alla fine del 1600 quindi non migliaia di anni fa. Quindi il primo che capisce con un elegantissimo esperimento dimostra questa cosa per l'appunto il nostro connazionale Francesco Redi. Poi per quanto riguarda i batteri ci pensa Pasteur ma è un francese non è così importante e proseguiamo. Ma spetta sempre a un nostro connazionale quello di puntare gli occhi sugli insetti che colonizzano le mummie egiziane questa è una rappresentazione del Valisneri del 1600 in cui vedete ci rappresenta ci disegna anche una mosca trovata tra i bendaggi della mummia che assolutamente rispecchia la struttura la forma di un fanide di una fannia che noi troviamo normalmente in ambienti ipogei e che vedremo tra un po'. Ahimè dobbiamo tornare oltre Alpe tra francesi e tedeschi perché poi la codifica della disciplina entomologia forense ci deriva da Orfila che fa tutta una serie di esumazioni e vedete in questa slide riporta una lista di insetti che lui trova esumando i cadaveri i nomi sono molto eloquenti perché abbiamo qualcosa tipo necroforus poi abbiamo dove è carnaria e quindi capiamo bene che si tratta di insetti che in qualche modo hanno a che fare con il corpo stesso. Mi piace citare anche il buon Bergeret d'Arbois il quale visita le catacombe di Tolosa e di Palermo e dice oh guarda quello che vedo a Tolosa lo vedo anche a Palermo e questo è uno dei presupposti della scienza perché una teoria scientifica deve essere valida in qualsiasi punto del nostro globo terracolo ma il padre vero e proprio è sempre un francese Jean-Pierre Menin il quale con questi due lavori la fauna delle tombe e la fauna dei cadaveri applicazione dell'entomologia alla medicina legale comincia a parlare di squadroni della morte o come vedremo tra un pochino io preferisco chiamarli le chiamarle le ondate di colonizzazione quindi il modo con cui gli insetti in maniera consecutiva colonizzano un corpo ma ecco una precisazione per chi ci segue da casa ci saranno delle immagini un pochino d'impatto quindi nell'eventualità volgete lo sguardo da un'altra parte e lasciate passare andiamo a vedere un attimo cosa succede quando parliamo di decomposizione di un corpo decomposizione di un corpo che viene in un ambiente in cui non ci sia troppa acqua o non ce ne sia troppo poca perché se c'è troppa poca acqua che sia caldo freddo non è importante andiamo verso la mummificazione che possiamo averla in un deserto come possiamo averla per esempio negli acciai ricordiamoci a ozzi la mummia del similaun dall'altra parte invece un corpo immerso in acqua va incontro a un processo che si chiama di saponificazione per cui il corpo si conserva sott'acqua invece se un corpo esposto si decompone perché prima c'è la lisi lo scioglimento delle cellule e dei tessuti il contestuale attacco da parte dei batteri che sono nostri coinquilini e convivono con noi dentro e sopra la nostra pelle e poi per l'appunto avremo l'arrivo come vediamo sia degli insetti che però anche di altri animali che asportano carne in questo video vedete molto velocemente come le larve di dittero si spolpano completamente un rettile e questo processo avviene ok qui siamo in time lapse però avviene in maniera molto veloce e questa velocità dipende dall'accessibilità del corpo quindi se il corpo esposto e dalla temperatura dell'ambiente in cui ci troviamo più caldo è più veloce è lo sviluppo degli insetti lo vedremo anche in una slide a seguire e quindi più massa del cadavere viene asportata ma quali sono i fattori che in qualche modo influenzano questa decomposizione eccoli qua come vi dicevo prima abbiamo dei fattori ambientali in particolare l'umidità e la temperatura che sono i due motori di qualsiasi reazione chimica quindi la disponibilità di un solvente l'acqua dall'altra parte l'energia e quindi che noi leggiamo come temperatura la presenza di importanti comunità microbiche che fanno il lavoro di bassa manovalanza però l'asportazione della massa del tessuto viene fatta dalla macro fauna i cosiddetti animali scavenger troverete in molti libri ahimè la parola predatori del cadavere il predatore preda una preda che è viva quando la preda è morta non sei più un predatore questa è la definizione ecologica quindi diffidate dai della predazione post mortale e pensiamo alle volpi pensiamo ai cinghiali possiamo pensare anche ai cani e gatti in un ambiente domestico confinato che in qualche modo consumano parte del cadavere anche quello del proprio proprietario dall'altra parte gli insetti che sono piccoli ma mangiano tanto tant'è che il buon Linneo diceva che tre mosche mangiano quanto un leone ed è ed aveva perfettamente ragione come vi avevo menzionato qualche istante fa il buon Menin capisce che sul cadavere si susseguono dei gruppi di insetti che sono specializzati a nutrirsi del corpo per portate quindi inizialmente li vedremo abbiamo i ditteri che hanno bisogno di un substrato ricco d'acqua per nutrirsi perché le loro larve hanno una digestione che è extra orale quindi iniettano gli enzimi digestivi sul substrato e poi lo inghiottono e una volta diminuito il tenore d'acqua del cibo abbiamo l'arrivo dei piccoli otteri i quali hanno mandibole che lavorano in maniera in antitesi una con l'altra in maniera contrapposta e quindi riescono a lacerare i tessuti cosa che le larve delle mosche invece no e alla fine abbiamo l'arrivo anche delle tarme con i lepidotteri delle famiglie tineidi e piralidi i quali arrivano a consumare anche la cheratina proteina estremamente difficile da digerire che però è per loro fonte alimentare in quanto si sono evoluti per cibarsi di questa quindi come vedete c'è una successione di gruppi di insetti che corrisponde alle trasformazioni che avvengono nel corpo e se pensate bene proviamo a pensare un attimo quando moriremo o morirete perché io ho deciso di non morire avremo un tenore d'acqua che circa il 70 per cento quindi di acqua ne abbiamo con il passare del tempo perderemo i liquidi e diventeremo uno scheletro anzi diventerete uno scheletro quindi a seconda dell'ambiente in cui le vostre ossa si trovano con un tenore d'acqua di circa il 5 per cento quindi una netta riduzione della quantità d'acqua dall'altra parte si susseguono sul corpo una serie di fermentazioni i nomi che leggerete nelle slide a seguire sono butirrica che ci ricorda il burro caseica il formaggio quindi ammoniacale come successione di trasformazione delle proteine che compongono il nostro corpo quindi veramente è una sorta di menù che cambia nel tempo e mentre noi del menù scegliamo dall'antipasto al dessert anzi all'ammazzacaffè gli insetti sono specializzati per portate perché ogni portata delle caratteristiche chimico fisiche particolari che vengono per l'appunto utilizzate da quel taxi se prendete qualsiasi testo di entomologia forense vi mettono delle bellissime immagini di adulti di insetti e invece siccome il titolo di questa presentazione è l'entomologia forense in italia vi faccio vedere ondata per ondata di colonizzazione che cosa realmente si trova che non sono quelle belle quei belli insetti spillati che qualcuno di voi ha visto prima nelle cassette entomologiche ma sono qualcosa di diverso a cui normalmente l'entomologo medio non è abituato perché l'entomologo normalmente lavora con gli stadi adulti invece l'entomologo forense lavora con tutti gli stadi di sviluppo di un organismo quando ero giovane avevo tanti capelli in testa ero uno studente mi ricordo un seminario del professor minelli a padova parlava di evo devo e lui diceva sarebbe bello avere una chiave dicotomica in cui dentro ci sia tutto tutto inteso non solo tutte le specie ma anche tutti gli stadi di sviluppo di tutte le specie forse col dna potremmo farlo ma a livello morfologico non abbiamo ancora questa chiave l'entomologo forense invece deve averla perché contestualmente lavora con tutti gli stadi di sviluppo di specie diverse allora partiamo con la prima ondata di colonizzazione troverete nei vari testi cosiddetti caldiforidi dalle belle ali e quello che noi troviamo sulla scena sono le uova queste ovature anche 800 uova possono essere deposte da una singola femmina normalmente in pacchetti abbiamo le larve queste sono larve belle messe al microscopio qualcuno di voi le riconosce questo è quello che si vede realmente su un coro queste masse più o meno diffuse che in qualche modo si distribuiscono sulla superficie corporea ma non solo possiamo avere anche i pupari la parola pupa è lo stadio di sviluppo quello che noi vediamo esternalmente un pupario dentro ci può essere una pupa ma ci può essere ancora un iniziale stadio finale scusatemi stadio larvale oppure l'adulto che è pronto ad uscire quindi usiamo la parola pupario che è più precisa e come vedete anche in questo caso questa è una foto di un caso caduto qui a genova qualche anno fa il numero è altamente impressionante vi ricordo che in un torace di un maschio adulto si arrivano a raccogliere fino a 8 9 chili di larve quindi se uno le vende per andare a pescare può farci anche due lire euro oggi come oggi però andiamo a vedere gli adulti delle specie che appartengono a questa ondata i calliforidi qui vi ho rappresentato una callifora vomitoria dalla barba rossa e da questa bella colorazione metallica blu avete in alto a destra una luciglia mosca verde e poi sotto una bellissima crisonia specie interessante che vedremo ha avuto dei risvolti molto importanti in numerosi casi italiani se in ambiente aperto ma anche in ambiente a dirvi la verità urbano troviamo urbano e chiuso domestico troviamo questi insetti queste questi generi prevalentemente in ambiente urbano appaiono i muscidi e tutti i testi trovate musca domestica io su oltre 500 casi che ho fatto l'ho vista una volta sola normalmente si trova muscina uscina molto più presente e una cosa interessantissima la presenza di questi in italia di questa specie della sintesi omia nudi seta di cui parlerò tra qualche istante quello che vedete sulla destra è un pacchetto di pupari all'interno di un capo d'abbigliamento di una vittima quindi tante volte uno pensa guardo sul cadavere li trovano sono frammisti all'abbigliamento della vittima qui avete due bellissime rappresentazioni di musca domestica da una parte che tutti voi avete visto perché ronza nelle nostre case durante l'estate quando mangiamo l'anguria in giardino ma non solo in giardino e dall'altra parte abbiamo una muscina anch'essa abbondante nei nostri contesti ma andiamo alla nostra amica sintesi omia che è caratterizzata da questo addome arancione e che in italia è presente a napoli e a genova e se guardate questi sono tutti i siti di campionamento in cui è stata campionata negli ultimi anni a savona non c'è c'è una certa rivalità tra savona e genova quindi genova vince su savona non solo non c'è neanche la spezia a imperia ma di genova c'è solo in prossimità del porto appena saliamo ci allontaniamo dalla città non la troviamo più allora se noi andiamo a vedere dove è distribuita la nostra in questa specie vediamo che è distribuita in africa in asia oceania e negli ultimi anni anche in sud america in europa non era presente fino al 1996 quando è stata segnalata in spagna prima in portogallo poi quindi questo ci lasciava pensare che in qualche modo dal portogallo alla spagna fosse arrivata poi in italia anche perché nel 2019 è stata segnalata anche in francia e allora abbiamo fatto il dna degli esemplari genovesi e quello che abbiamo scoperto è che gli esemplari che noi abbiamo hanno un dna molto molto vicino alle popolazioni cinesi e per nulla vicino alle popolazioni portoghesi o spagnoli quindi il la globalizzazione da una parte il traffico di merci perché genova il secondo porto d'italia e in passato commercializzava fondamentalmente con la russia e con la cina e dall'altra parte il fatto che genova sia arrivata da due anni tre anni a questa parte all'isoterma a 20 gradi ha permesso a questa specie di colonizzare la città di di genova su 13 casi l'abbiamo trovata ben otto volte quindi sta rimpiazzando quella che era la fauna tradizionale che andava sui cadaveri genovesi e quindi ci obbliga a rivedere i nostri paradigmi e a riconsiderare come le variazioni ambientali che noi sempre immaginiamo scala globale abbiano delle ripercussioni su una scala estremamente limitata come può essere quella di una ricostruzione di un caso di interesse forense quindi il global warming e la globalizzazione non sono parole astratte ma sono estremamente concrete e ne paghiamo le conseguenze non solo perché non si può andare a sciare manca l'acqua d'estate ma anche nel nostro lavoro di tutti i giorni con il passare del tempo il corpo comincia gonfiarsi perché all'interno abbiamo la produzione di gas e arrivano a questo punto i sarcofagidi questo è quello che noi regolarmente troviamo quindi delle larde estremamente robuste con degli spiracoli posteriori contenuti all'interno di una sorta di sacca e questa immagine a voi dicono poco niente però questa immagine sicuramente vi ricorderà delle mosche che avete visto nelle vostre passeggiate in montagna normalmente stanno sopra i sassi fanno la guardia molto territoriali che hanno una particolarità rispetto alle precedenti non depongono uova ma sono larvipare depongono subito larve per citarvi un caso importante italiano in cui loro erroneamente identificate inizialmente identificate dalle larve dalle fotografie cosa che è impossibile da fare sono state testimoni di quello che è successo nella serie di omicidi del mostro di Firenze il caso degli scopetti in cui un ragazzo e una ragazza vengono uccisi all'interno di una tenda e poi la ricostruzione temporale viene rifatta a posteriori proprio intuendo che le larve che c'erano sul corpo erano di sarcofagidi e non di califoridi quindi non erano state deposte le uova erano state deposte subito le larve questo comporta o ha delle ripercussioni sulla stima del tempo la decomposizione prosegue andiamo verso quella che si chiama fermentazione butirrica e sul corpo cominciano ad apparire delle altre mosche che depongono delle larve di piccole dimensioni mentre le precedenti arrivano a due centimetri circa qui siamo nell'ordine di qualche millimetro e nell'immagine della colonna vertebrale con quelle larve macchie bianche che spero tutti riusciate a vedere se ne vede una forma di queste sono le larve del dei più filidi che sono conosciuti per il fatto che saltano le skipper larvae praticamente avvicinano la regione orale con la regione anale tendono i muscoli e poi quando rilasciano il contatto tra le parti distali saltano salti che possono essere anche di una ventina di centimetri e più fa caldo più saltano più si allontanano dal corpo io ho visto delle scene esilaranti di sale autottiche completamente colonizzate da questi larvette che saltavano si allontanavano dal corpo quando sono presenti sono numerosissime ma se ci ascolta qualcuno dalla sardegna sarà interessato dal fatto che si tratta per l'appunto delle mosche più filidi meglio conosciute come mosche del formaggio presenti in italia con due specie più presenti in italia con più specie ma quelle che noi troviamo sui cadaveri normalmente sono la piofila casei per l'appunto la mosca del casu marzu e la stearibia nigriceps ora che stanno diventando di moda gli insetti come fonte alimentare voglio vedere quanti mangiano senza tanti problemi il casu marzu ho già visto non posso vedere chi è collegato da casa ma guardando l'audience qui presente le facce delle persone schifate sono più di una ricordiamoci che sono insetti anche le mosche e anche le loro larve sempre nella fase della fermentazione butirrica abbiamo l'arrivo dei dermestidi e quello che io trovo fondamentalmente sul corpo sono delle larve che presentano delle setole molto lunghe qualche volta posso trovare dei degli adulti e sicuramente li avete visti eccoli qui infestavano le cantine dei nostri nonni talvolta infestano anche i nostri armadi perché si mangiano tutto ciò che ha un po di proteina parlo soprattutto dell'esemplare quello più a giallo alla vostra destra che è un antrenus e è un incubo non solo per i vostri maglioni ma per l'entomologo medio un incubo perché si fa fuori le collezioni entomologiche gli inglesi uniscono gli antrenus e gli attagenus manca una t scusatemi con il termine di carpet beetles gli insetti dei tappeti perché da una parte si mangiano il tappeto dall'altra parte il tappeto una trappola per peli capelli ed altri frammenti del nostro corpo ricchi di cheratina che sono ottime proteine per la loro per la loro dieta passa il tempo e alla fermentazione butirrica si aggiunge quello che è caesica caseica scusatemi e comincia a trovare sul corpo larve e pupari schiacciati come questi con delle strane propagini dietro normalmente schiacciati dorso ventralmente che appartengono alle ai fannidi quindi genere che noi abbiamo che si colonizza i cadaveri genere fannia conosciute volgarmente con il termine di mosche delle lettrine o mosche delle trincee erano un po l'incubo dei nostri soldati da quante ce n'erano durante la grande guerra sempre in questa fase il corpo sta perdendo liquami quindi immaginatevi una grande massa d'acqua che si sta liberando e cominciamo a trovare degli organismi dalle forme bizzarre e strane dette anche a coda di topo come quella più in alto delle due comunque con dei sifoni respiratori allungati che permettono loro di respirare uscendo dal liquido ma con un apparato masticatorio o comunque gli apparati deputati all'assunzione di cibo che sono all'interno della matrice umida sono tanto brutti da larve anche se estremamente affascinanti per forme quanto estremamente belli da adulti perché sono i sirfidi sirfidi che hanno tutta questa serie di mimetismi bellissimi per confondersi con i menoteri di vario tipo api bombi e vespe e qui abbiamo i due generi principali che troviamo in italia da una parte eristalis e dall'altra il genere sirita ma sempre in questa fase abbiamo l'arrivo di altri bellissimi coleotteri questi sono davvero molto belli i cleridi dalla genere necrobia nella famiglia i cleridi sono tutti i floricoli forse se non ce n'è qualcun altro floricolo chiedo ai colleghi di di correggermi ma il genere microbia è specializzato sul cadavere e sono tre specie in italia violacea rufipes e ruficollis facile da identificare perché una le zampe viola l'altra c'è rosse e la terza c'ha il collo rosso su un substrato totale che è blu molto belle molto interessanti arriviamo ora però a quella che è la fermentazione ammoniacale quindi le proteine sono degradate ancora di più e entriamo in contatto con un mondo tanto meraviglioso quanto complicato da un punto di vista tassonomico che è quello dei foridi come vedete dalla barra di misura che è di due millimetri e 500 micron nell'altro trattasi di insetti piccolissimi due tre millimetri conosciuti come mosche dei sarcofagi o delle tombe perché seppur piccoli riescono a scavare per due metri sottoterra per rintracciare la loro fonte alimentare quindi un pezzo della dell'ingresso viene fatto da dagli adulti che poi depongono le uova e poi la larva prosegue alla ricerca della fonte alimentare stessa cosa fanno anche i caldiforidi nel caso dei cadaveri in valigia le uova vengono deposte al di fuori della zip la zip comunque ha delle micro fessure delle fessure sufficientemente larghe per permettere alle larve di accedere una cosa interessante che mette insieme i i foridi con i fannidi con la mosca che farò vedere tra qualche istante è che oltre a colonizzare corpi esposti sono specializzate nei corpi sottoterra quindi se io trovo solo queste e non trovo le caldifore o i caldiforidi più in generale posso dire che il corpo è stato messo sottoterra velocemente perché non c'è stato il tempo per i caldiforidi per colonizzarli e quindi ci danno anche un'informazione su cosa è successo al corpo dopo il decesso la mosca di cui vi volevo parlare è idrotea genere idrotea le più comuni in italia sono idrotea capensis e idrotea in essence ancora si trova citato da qualche parte il termine ofira però al momento tenetelo congelato il genere e genere idrotea mosca che quando è presente è presente in direi milioni di esemplari i collaboratori lo sanno bene perché quando devono estrarle contarle diventano matti però diciamo che in un ambiente ipogeo sono loro che colonizzano consumano tutta la massa di un corpo sempre in fermentazione ammoniacale abbiamo l'arrivo dei silfidi quello che noi vediamo normalmente sono larve però talvolta anche adulti mi ricordo un caso estremamente interessante non c'entra con i cadaveri umani ma c'entrava con un'attrice un'attrice quindi un serpente che era stato trovato all'interno di una cassetta nido per rapaci al bosco della fontana in quei marmirolo e il cadavere perché era cadavere in quanto puzzava di questa natrice si muoveva ma non si muoveva per strani riti esoterici ma si muoveva perché dentro aveva una popolazione enorme di questi insetti che sono molto grandi per cui lo facevano proprio muovere esiste anche la carologia forense o meglio quando il corpo è secco abbiamo l'arrivo anche di acari questo questa immagine che vedete a sinistra è lo scarponcino di una vittima di un caso anche questo genovese sul quale riuscite a vedere molto bene queste macchie arancioni non sono nient'altro che degli acari allora prima di metterci il dito spostare il capo d'abbigliamento quella zona era completamente arancione immaginatevi e non se ne voglia il nostro presidente per l'appunto il maglione del professor bologna che avete visto prima questo era il colore lo scarponcino logicamente una volta stimolati si sono allontanati però qui ne avete uno in fotografia queste sono le ondate di colonizzazione una per una e poi ne mancano mancano altre due che vedremo alla fine però ci sono animali come questi gli straziomidi che sono direi di bocca buona nel senso che ma che possono arrivare in prima ondata di colonizzazione fino alla quinta più o meno quindi fino alla fermentazione ammoniacale si tratta di hermese lucens e di sargus bipuntatus qualcuno di voi soprattutto persone a casa al posto di aver sentito questo bellissimo nome scientifico con cui si identifica sta specie avranno sentito l'acronimo orribile di bsf black soldier fly con cui adesso va per la maggiore però nome scientifico continua a rimanere hermese lucens animale interessante perché è arrivato in europa solo nel novecento si ipotizza trasportato con su navi americane una particolarità vi faccio vedere l'adulto quella nera alla vostra sinistra questo vuole essere anche una stilettata il fatto che la società entomologica come l'accademia come il mondo accademico universitario spinge sempre sul concetto di professionalità e per fare l'entomologo forense prima di tutto uno deve essere un entomologo poi può studiare gli insetti di interesse forense ci sono stati dei casi in cui chi ha identificato le larve trovate sul cadavere ha detto che era per forza hermese lucens perché in letteratura forense c'era solo hermese lucens ok è come andare in cerca di capire che macchina è quella che c'è in un parcheggio guardando solo il catalogo della fiat e se è una Volkswagen in italia abbiamo ben due casi in cui erroneamente è stato identificato sargus pipuntatus come hermese lucen e come vedremo tra un pochino lo sviluppo degli insetti è temperatura dipendente specie specifico se sbaglio la specie sbaglio tutte le mie stime e quindi non riesco a rispondere correttamente anzi faccio del male al sistema giudiziari proseguiamo con l'ultima ondata di colonizzazione il corpo ormai è secco arriva ancora qualche dermestide e arrivano le le tarme le tarme dei vestiti quelle che nel mondo agglossassano vengono chiamate come clothes moats e le mosche per l'appunto delle farfalle dei vestiti le quali riescono a consumare per l'appunto le parti altamente cheratinizzate sembrano tanto belline nella fase adulta sono tanto distruttivi nella fase invece immatura queste sono le ondate di colonizzazione questo è come un cadavere viene colonizzato nel tempo se nelle condizioni appropriate ma siccome natura non si butta via niente siccome natura tutto interconnesso oltre a tutti questi che si nutrono del del cadavere avremo delle specie che mangeranno quelle che abbiamo visto fino adesso e quindi abbiamo una serie di predatori qui vi ho rappresentato un creofilos marcillosus quello nero e con le setole bianche che è uno stafilinide e a destra un isteride ma non solo predatori abbiamo anche tutta una serie di parassitoidi che depongono le loro uova da cui poi si svilupperanno le loro all'interno del corpo delle larve delle mosche e possono e hanno un'utilità rilevante perché in qualche modo allungano il metro temporale dell'entomologo forense ma andiamo a a vedere cosa cosa succede poi nella pratica qual è la domanda che normalmente fa il buon montalbano al medico legale dottore quando è morto quindi la domanda principe a cui l'entomologia forense è chiamata a rispondere è il quando le ondate di colonizzazione che vi ho fatto vedere prima sono state utilizzate in passato come una stima io direi occhiometrica del tempo perché voi immaginate che quello che succede a milano e quello che succede a catania è completamente diverso perché le temperature sono diverse perché gli ambienti sono diversi addirittura le tabelle che troviamo ancora nei libri sono riportano dati del della germania quindi continuo a dire tra catania e berlino direi che la situazione ambientale e termica è completamente diversa quindi a chi si vuole se approcciare all'entomologia forense utilizzate questo dato di colonizzazione per capire cosa succede ma non per dare dei tempi quindi ottime per la didattica pessime per l'aspetto invece professionale della disciplina quindi come si fa una stima dell'epoca della morte ci sono dei metodi io dico sono gli unici quattro metodi che permettono di determinare la morte l'epoca della morte ed è la presenza di testimoni oculari questo è il caso del dello shuttle quando esploso qualcuno di voi continuo a ripetere io non nessuna intenzione di morire finirà in ospedale con delle apparecchiature che ne misurano la fisiologia l'elettrofisiologia e quel bbb lost lo abbiamo perso ci identifica il momento della morte della persona morte elettrofisiologica io non ci credevo però l'ho sperimentato e funziona possiamo determinarla guardando l'orologio in caso di vecchi orologi non più quelli elettronici di adesso digitali di adesso ma quelli analogici perché si bloccavano le lancette al momento dell'impatto lo sanno bene a longarone perché le lancette delle vittime del vaiont sono fissate allora l'impatto dell'onda d'aria che travolse il paese longarone e a me è capitato un caso di un aereo che è precipitato il pilota oggettivamente aveva l'orologio bloccato al momento dell'impatto dall'altra parte altro modo altro caso singolare in cui si può determinare il momento esatto della morte è nei furti di rame perché sulla linea elettrica dove è stato rubato il rame c'è un picco di consumo logicamente la corrente in quel momento ha transitato attorno all'interno del corpo di chi stava rubando il rame e quindi sulla linea lo leggo anche lì abbiamo una sorta di testimone elettronico che mi misura un consumo e quindi una data certa un momento certo in tutti gli altri casi l'applicazione dei metodi classici della medicina legale permette di fare comunque solo delle stime il rigor mortis quando un corpo diventa duro come un pezzo di marmo il liver mortis la lividità cioè il sangue che fluisce seguendo la forza di gravità perché il cuore non funziona più e che si accumula nelle parti declivi laddove può entrare perché dove i capillari sono schiacciati come in questo caso sulle spalle sui glutei lì non può entrare quindi restano liberi col passare del tempo se inizialmente premendo con un dito io riesco ancora a spostare il sangue col passare il tempo invece questo coagula e quindi si fissa la lividità logicamente altro metodo che avete sentito anche il telegiornale è basato sulla variazione della temperatura il raggiungimento dell'equilibrio della temperatura del cadavere con l'ambiente all'interno del quale si trova qui tra di voi c'è qualcuno che mi odia i miei studenti della magistrale perché sanno che in questo in queste aule è vietato dire che un corpo si raffredda il termine corretto un corpo va in equilibrio con l'ambiente perché se l'ambiente dove si trova il corpo è più freddo del cadavere il cadavere si raffredda ma se l'ambiente è più caldo il corpo non può raffreddarsi ma invece si riscalderà perché venendo a mancare tutti quelli che sono i sistemi di termoregolazione che si sono evoluti nel corso della nostra storia quindi guardando la temperatura posso fare una stima dell'epoca della morte e poi c'è l'analisi degli ioni potassio all'interno dell'umor vitreo e tutta una serie di altre analisi tipo chimico o elettrofisiologico ma queste hanno validità nelle prime 48-96 ore dopodiché per il medico legale Ixunt Leones non può più dire nulla come non può più dire nulla in casi come questi un depezzato posso fare rigor mortis di un piede? difficile posso fare la temperatura di un cadavere carbonizzato come questo o di un altro cadavere carbonizzato come questo? assolutamente no e come avrete visto nella prima immagine del pezzato in questi contesti gli insetti ci vanno come vanno su un cadavere che è in decomposizione vanno anche su cadaveri carbonizzati anzi ci vanno di corsa perché nel momento in cui brucio un cadavere gli odori della carne bruciata diffondono nell'aria molto più velocemente in più si rompe quindi aumenta la superficie di scambio il fatto che gli odori diffondano lo sapete meglio di me tutte le volte che avete fatto una grigliata di carne non me ne vogliano male i vegani che non mangiano le grigliate di carne ma se fate una grigliata di carne il profumo della vostra cena si distribuisce nel tutto il quartiere lo stesso succede per un cadavere che viene bruciato quindi altro dettaglio che continuo a rimarcare in molti testi ahimè è scritto che sul carbonizzato gli insetti non ci vanno ma ahimè molti testi non sono che il copiato di copiato di copiato di errori del passato sul carbonizzato gli insetti ci vanno e sono un ottimo indicatore di tempo ma qual è il tempo che noi con gli insetti possiamo stimare i tempi del decesso ce ne sono tre fondamentalmente c'è il tempo reale del decesso quella persona è morta da otto ore poi c'è un tempo massimo del decesso quella persona l'ho vista in vita a mezzogiorno di lunedì poi nessun altro l'ha più vista però io sono stato l'ultimo che l'ha vista e quindi sicuramente a mezzogiorno di lunedì quello era vivo poi tra mezzogiorno di lunedì e le 5 di venerdì non so cosa sia successo ma sicuramente è morto e poi c'è il terzo tempo che è il tempo minimo di colonizzazione cioè il tempo in cui gli insetti si sono sviluppati sul cadavere che è quello che noi stimiamo quindi gli insetti non stimano il tempo del decesso ma stimano il tempo minimo altro esempio se io metto qualcuno anzi se un mio studente mi uccide prima o poi succederà mi mette dentro un freezer per tre anni e poi tira fuori il mio cadavere gli insetti mi colonizzeranno ma dopo tre anni quei tre anni che io ho passato in freezer al fresco non sono identificabili dall'attività degli insetti o da qualsiasi altro elemento naturale che si possa sviluppare su di me andiamo a vedere velocemente il ciclo di sviluppo dei ditteri quindi abbiamo come avevo detto le uova le larve tre stadi di sviluppo anche qui tutti dicono instar ma abbiamo la parola italiana stadi di sviluppo usiamola non costa niente abbiamo il pupario e poi dal pupario tramite un aumento di pressione interna e la fratturazione di linee di debolezza del pupario stesso fuoriesce l'adulto che inizialmente è bianco come avete visto nella locandina di questo seminario poi stende i tessuti e assume una colorazione come in questo caso di luciglia bella verde dovuta per l'appunto a un processo di colorazione fisica dell'insetto stesso quello che ci dobbiamo ricordare è che questo ciclo è temperatura dipendente e specie specifico quindi giusto per farvi l'esempio di luciglia sericata queste sono le tabelline che vengono prodotte in cui vedete le temperature nella prima colonna e i giorni di sviluppo nell'ultima vedete che più bassa la temperatura più tempo ci mettono a svilupparsi a 16 gradi 32 giorni invece se la temperatura aumenta andiamo a 27 gradi ci metterà solo 14 giorni tabelle così e grafici così ce le abbiamo per molte specie perché per molte specie? perché ecco l'esempio a 25 gradi califora vomitaria ci mette 3 settimane a svilupparsi 21 giorni e mezzo invece la sua cogenerica califora vicina ci mette solo 17 giorni quindi una bella differenza di 4 giorni 4 giorni in un caso forense fanno una gran differenza in 4 giorni prendete un aereo e scappate dove volete ok? quindi un alibi o non alibi è sostenuto in 4 giorni alla grande ma gli insetti ci servono in casi molto molto forensi sempre ma molto lontani anche per capire la stagione del decesso e qui vi riporto un caso particolare che è quello di Elisa Claps la quale sparisce il 12 settembre del 93 e viene trovata 17 anni dopo a 5 metri da dove era sparita 5 metri in verticale perché l'ultima volta vista in vita era in una navata di una chiesa quando è stata trovata era nel sottotetto di questa chiesa il corpo era completamente ricoperto di pupari e altri frammenti di insetti vedete qui un'immagine del materiale che ricopriva il corpo della povera Elisa e tra questi c'era Crisomia albiceps di cui avevo già fatto menzione all'inizio questo insetto all'epoca dei fatti era conosciuto solo per la seconda metà di agosto e settembre in quell'area geografica l'area di potenza adesso con l'aumento delle temperature sta un po' cambiando il proprio areale vi dicevo seconda metà di agosto fine settembre lei sparisce il 12 di settembre quindi il dato entomologico si sovrappone perfettamente con il dato circostanziale e questa è stata l'unica evidenza temporale per quel processo non ce n'erano altre erano state fatte duemila altre ipotesi che fosse stata rapita, sequestrata fosse andata in altri paesi e l'avessero portata dopo difficile è che l'avessero rimessa dentro da sotto su quel tetto di chiesa esattamente nello stesso momento in cui era sparita o nella stessa stagione ma l'entomologia forense è e l'abbiamo capito tassonomia ecologia fisiologia perché se sbaglio l'identificazione abbiamo detto non capisco proprio più niente se non conosco bene la fisiologia dell'organismo non arrivo da nessuna parte se non conosco l'ecologia della specie non posso aggiungere nulla ai quesiti che mi vengono fatti ma è una scienza che è estremamente moderna è una scienza che obbliga l'entomologo a fare la microscopia ma lo obbliga anche a fare la biologia molecolare e andiamo a vedere il passo verso è il presente ma anche il futuro dell'entomologia forense vi ho detto che nasce per la stima dell'epoca della morte o il tempo minimo del decesso ma può essere utilizzata per capire anche chi è la vittima quando in situazioni come quelle che vi faccio vedere tra un istante prima di farvi vedere lo scenario questa è una larva quella in basso vedete che c'è una macchia nera più scura nella parte anteriore che viene definita crop non è nient'altro che quello che è ingerito che viene messo all'interno di questa struttura anche in gluvie per poi essere processato e assorbito completamente quella che io ho rappresentato in rosso non è nient'altro che il risultato dell'ingestione del pasto della nostra larva abbiamo una vittima questo esempio che vi faccio è reale sono dei casi di mafia caduti in Italia anni fa non solo in Italia il cadavere viene deposto in un certo luogo arrivano le nostre amate odiate mosche che la colonizzano le pongono quindi le uova da le quali si sviluppano le larve che cominciano a nutrirsi del corpo arriva una soffiata alla polizia che indica dove si trova il cadavere cosa fanno? fanno sparire il corpo allora criminali sì entomologi no recuperano il corpo ma lasciano lì le larve che magari sono tra le tavole del pavimento che sono riparate lungo il battiscopa oppure nell'ambiente aperto sotto le foglie o nel suolo è ottimo perché io posso prendere queste larve le metto in una bella provettina estraggo il crop meglio congelarle per estrarlo viene più facile faccio il DNA e faccio un profilo perfetto della vittima e quindi posso dire che in quel luogo giaceva il cadavere di nome e cognome quindi estremamente interessante estremamente utile dall'altra parte nel caso di insetti ematofagi trovati all'interno di una scena del crimine posso fare la stessa attività estrago il sangue contenuto in essi e faccio il DNA e andrò a scoprire l'identità del nostro diabolik per chi ha una certa età o scegliete il vostro personaggio preferito per i più giovani quindi una disciplina che si muove nel dominio della biologia molecolare della genetica non vi ho portato esempi di tossicologia ma dalle larve e addirittura dagli escrementi dei dermestidi quelli che troverete nella letteratura inglese col termine di fras posso fare l'estrazione delle droghe e sostanze tossiche ingerite dalla persona in vita l'unica cosa che non posso fare è il rapporto tra quantità contenuta nelle larve e quantità che era inizialmente contenuta nel corpo della vittima quindi ci danno un'indicazione se era stato drogato o se era drogato quando è morto ma non sappiamo esattamente qual era la dose della droga ingerita però piuttosto di niente è già un'informazione logicamente se uno ha un cadavere intero è assurdo fare l'analisi delle larve ma se il cadavere è altamente decomposto e non ci sono più tessuti gli insetti sono degli ottimi sostituti vorrei chiudere con un saltino nel passato un passato che non è troppo passato rispetto a noi ed è quello dei soldati della prima guerra mondiale questi sono i resti di un soldato trovato nell'altipiano di Asiago in località Laghi qualche anno fa se qualcuno di voi è appassionato di storia militare riconosce subito nel metto italiano della prima guerra mondiale gli antropologi o chi ha una cultura antropologica in qualche modo riesce a intravedere il resto del corpo e uno degli obiettivi era cercare di ridare un nome a questo povero ragazzo perché aveva tra i 19 e i 25 anni quando è morto e per far questo dovevamo capire in che periodo della guerra era morto che fosse morto e la cosa interessante è che nelle giberne quindi in quelle tasche che aveva davanti che portava la munizione si erano rifugiati delle larve che avevano si erano costruito il loro pupario lì in un posto protetto ed erano quelle che si erano nutrite dei resti del soldato e qui le vedete ancora in una matrice di ife fungine una volta pulite sono state identificate come una protoformia terra 9 e una formia regina che appartengono alla prima ondata di colonizzazione e poi una fannia vi ho detto che le fannie sono specializzate anche nella colonizzazione sottoterra mentre le prime due di una colonizzazione in ambiente aperto il nostro soldatino quando è stato trovato era sottoterra allora come spiegare questa situazione la prima risposta è quando è morto tutto ci fa pensare che sia la colonizzazione sia avvenuta in primavera perché per la successione degli eventi poi vicino a lui deve essere scoppiata una bomba d'artiglieria che l'ha ricoperto con della terra e a quel punto là abbiamo avuto la colonizzazione da parte dei fannidi che arrivano dopo questi dati poi sono stati in qualche modo supportati da quelle che sono state le vicende belliche di quell'area lì in cui c'è stato una sorta di stravolgimento e rivoltamento dei fronti tra quello austriaco e quello italiano quindi l'entomologia forense in questo caso non è entomologia forense perché è archeoentomologia comunque ha degli impatti importantissimi anche etico etico e morale etici e morali in contesti del passato siccome il mio tempo è finito 60 minuti esatti vi ringrazio per l'attenzione se avete domande sono qui in ogni caso vi ricordo il sito della società entomologica italiana che è www.socetamentomologicaitaliana.it tutto 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 uno e se no ci sono anche i miei contatti via mail facebook twitter instagram non ho tiktok ma ci sto pensando grazie ancora allora grazie 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 Stefano io cerco di avviare il video anche mio eccoci qua allora veramente interessante questo tuo mi ho sentito diversi da parte tua ma questo era molto differente dagli altri mi è piaciuto molto penso che sia molto anche diciamo didatticamente utile per far capire quanto sia importante per esempio la tassonomia che spesso ce ne scordiamo non abbiamo più tassonomi nel nostro paese e invece può essere può avere anche una rilevanza estrema in entomologia applicata in vari campi in entomologia applicata penso a quella medica forense agraria e quant'altro e anche per farci capire come bisogna fare molta attenzione a essere dei professionisti l'hai detto tu io invito il pubblico che ci ascolta a capire che bisogna essere veramente specializzati per fare un mestiere difficile cioè se no diciamo delle cose fantasiose o comunque inaffidabili che però nel caso specifico che tu hai trattato rischiano di essere anche dannose penso a un processo o qualcosa del genere quindi grazie ancora di questo vediamo se ci sono delle domande io cercherò di vederle sulla chat dai presenti e poi se mai Davide se puoi vedere delle domande posso leggere anche io quelle da da youtube non lo so vediamo un attimo sì ci penso io se ce ne sono allora vediamo un attimo se ci sono delle domande qui fra i presenti so che tu hai trattato molti casi veramente rilevanti negli ultimi anni anche perché non sono molti gli entomologi forensi nel nostro paese spesso tu mi raccontavi che viene affidata l'indagine a dei medici legali che non hanno competenze entomologiche spesso inquinano le potenziali prove sbaglio Stefano beh allora sì nel senso che c'è un'improvvisazione iniziale perché ahimè quando parliamo di medicina o di corpo umano sembra che sia estremamente una cosa complessa invece gli insetti in quanto piccoli e brutti possono essere trattati in maniera superficiale e questa è la presunzione che io vedo di fondo invece noi lo sappiamo meglio di tutti gli altri ma ho cercato di farlo capire anche nella mia presentazione lavorare con con gli insetti è estremamente difficile è tanto appassionante quanto difficile e dall'altra parte sbagliare non è non è non è ammesso e voler fare il lavoro di qualcun altro secondo me è addirittura immorale poi se facessimo fare un lavoro dell'idraulico all'elettricista esatto siamo in quella esattamente in quella situazione lì ahimè la disciplina è poco conosciuta perché è poco conosciuta o meglio si cerca di di far finta che non ci sia in alcuni casi e poi dall'altra parte la coperta è corta e quindi anche io capisco i magistrati quando devono fare le indagini devono in qualche modo cercare di capire dove indirizzare le risorse poche che hanno non vedo nulla in chat nulla come domande ci sono scusa posso dire una fare una piccola domanda credo Marco sono Bruno sì sì ti sento mi mi manifesto ciao allora intanto io mi vorrei congratulare con Stefano perché è stato veramente bravo e mi vorrei congratulare anche con voi che organizzate questi seminari che sono veramente di livello altissimo sono molto contento del risultato Stefano io ti volevo chiedere quel soldato poveretto ma non potrebbe essere che è stato sepolto successivamente quindi è stato coperto di terra e allora è intervenuto il secondo dittero che vive sotto terra allora qui ci vengono incontro gli antropologi la posizione in cui il corpo giaceva era legata alla causa di morte praticamente io non vi ho fatto vedere tutta la storia ma c'è una granata che gli esplosa vicino e gli aveva perforato la scatola cranica passando sotto l'elmetto fosse stato 5 centimetri più basso si salvava e quindi è caduto in avanti e questa è la posizione in cui è stato trovato poi anche il modo con cui la terra l'ha ricoperto non era quella di un ricoprimento volontario e il terzo punto è che non poteva essere ricoperto da nessuno perché gli italiani che avevano fatto l'attacco quindi questo ragazzo stava andando all'assalto dovessero ritirarsi immediatamente per la controffensiva austriaca quindi lui a un certo punto si è trovato dietro le linee austriache e anche molto lontano in una zona che non era una zona di normale attraversamento qualche mese dopo l'artiglieria italiana comincia un bombardamento serrato per recuperare le posizioni perdute e evidentemente in quel frangente c'è stato il ricoprimento allora ascolta un attimo c'è un tanto complimenti da Franco Erfia che non so fraci non so e poi Marcello Romano che chiede abbiamo visto che l'entonologia forense aiuta a dare risposta principalmente alla domanda quando ma può dare indicazione anche alla domanda dove è avvenuto il decesso interessante questo quesito allora assolutamente sì abbiamo dei casi italiani molto belli e dove abbiamo lavorato abbiamo trovato Lucilia sedicata in contesti assolutamente assinantropici quindi lontanissima del qualsiasi luogo abitato e lo stesso per la calitura vicina un caso in Sicilia di una signora che era stata uccisa in un appartamento lasciata almeno una notte nell'appartamento poi la mattina dopo abbandonata in aperta campagna in quel caso c'erano le due comuni le due colonizzazioni e addirittura lì si è riusciti a capire quando e dove era stata uccisa e quando era stata spostata quindi come dicevo prima all'inizio sì per data la specificità d'abita posso utilizzare gli insetti per capire gli spostamenti dobbiamo però tenere sempre presente quella che è la struttura territoriale italiana per cui certi assunti che possiamo applicare non so in Sicilia o in Francia che hanno strutture del paesaggio abbastanza simili quindi nucleo abitativo campagna altro nucleo abitativo non possiamo assolutamente applicarle in pianura padana dove abbiamo l'urban sprawl e dove hanno costruito case ovunque quindi c'è un'alternanza tra urbano e non urbano però sì lo spostamento del cadavere gli insetti ce lo raccontano c'è un'altra domanda di Davide Sassi grazie per interessanti informazioni sulla qualità della disciplina ma come possiamo dire sulla quantità mi spiego quanti sono gli entomologi frenzi quanto vengono utilizzate le indagini quanto sono gli entomologi frenzi bravi e che quindi consentono la raccolta di dati decisivi nelle indagini in sostanza qual è l'impatto reale di questa disciplina nella soluzione di casi a processo? Allora qua è bella questa domanda estremamente impegnativa per quante ore abbiamo la connessione rispondo velocemente il quanto vengono utilizzati dipende dalla sensibilità delle magistrature e dei medici legali in alcuni contesti vengono chiamati con una frequenza molto alta parlo per esempio di Milano però lì c'è la sensibilità della professoressa Cattaneo che è molto sensibile a questa cosa e la utilizza in maniera regolare ma non solo vi cito per esempio anche in Sicilia l'area di Messina alla cronaca dei fatti due anni fa il caso di Caronia l'impatto che hanno avuto su processi importanti al di là del caso Claps che ho citato prima cito il caso Gambirasio la povera Iara cito il caso Parolisi in cui l'entomologia è stata non fondamentale ma anche di più è lo stesso nel caso di Caronia per la morte della mamma non per la morte del bambino e quindi laddove viene utilizzata da risposte importanti ma anche un altro caso per quelli di area Veneta penso al caso di Lucia Manca che era stata uccisa a Marcon e portata verso sopra il Vicentino ma non solo potrei elencare qualche centinaio di altri casi però questi sono quelli che sono passati sui media quanti sono quelli bravi non spetta a me dirlo anzi dovrei dirlo ma preferisco di no però posso dire che ce ne sono ce ne sono ahimè ci sono anche altri che millantano bravura ma questo lo troviamo in qualsiasi disciplina del mondo l'importante è non lasciarsi abbindolare e una cosa che io continuo a dire per la quale ogni tanto vengo anche odiato ahimè l'Italia va avanti per mio cugino o l'amico dell'amico e quando medici professionisti magistrati avvocati smetteranno di applicare il sistema del mio amico e cominceranno a chiamare solo i più bravi questo sarà un grande passo avanti per la nostra società però questo non sta non spetta a me come entomologo forense dire quindi può essere chiamato entomologo forense anche come perito di parte per esempio non solo dalla procura ma anche dagli avvocati assolutamente sì assolutamente sì perché in Italia per fortuna siamo in un sistema anche se qualcuno è un po' giustizialista nella testa siamo ancora in un sistema in cui c'è il contraddittorio per cui gli avvocati possono nominare un entomologo di parte e questo fa il suo lavoro a me sono capitati degli entomologi di parte molto bravi interessanti con cui è stato piacevolissimo discutere di scienza mi è capitato un consulente di parte che su quattro identificazioni ne aveva sbagliate tre e quindi anche lì bisogna stare un po' attenti però io continuo a dire come entomologi dobbiamo rimpossessarci dell'entomologia forense perché prima di tutto si è un entomologo meglio si conoscono gli insetti e poi li si applica nel contesto forense se uno non ha passato tanto tempo al microscopio poco potrà dire potrà dirlo nei casi più semplici quando c'è la luciglia famosissima luciglia sericata poi magari vai a vedere bene scopri che è una illustris o una caesa e poi lì ti senti dire ma io ho fatto il DNA tu dici bravo ma luciglia caesa l'illustris il gene cox 1 non le distingue quindi o conosce anche la morfologia non vai da nessuna parte quindi davvero dobbiamo rimpossessarci un pochino di spazi culturali intellettuali che sono professionali anche direi che sono della biologia delle scienze naturali visto che non vedo ulteriori domande io posso dunque complimenti per la presentazione io a me sono capitati tantissimi casi però riferiti essenzialmente alla alla alle derrate alimentari sia sia in posizioni di identificazione dell'infestante che nella difesa di questioni internazionali eccetera in realtà il legislatore è carente nei nostri confronti perché ad esempio nell'ispezione degli alimenti il tutto è assegnato ai veterinari e i veterinari non hanno nel loro percorso formativo l'entomologia o comunque l'hanno sempre rifiutata e davvero delle volte combinano dei pasticci incredibili per non per citarvi l'ultimo caso ieri proprio ieri mi ha chiamato una collega da Zagabria dicendo guarda hanno bloccato delle delle balle di tè proveniente dall'Oriente perché qualcuno ha scritto che c'è un'infestazione che è sorta 58 giorni fa e io sono davvero cattuto dalle nuvole perché poter dire una cosa una scemata del genere ci vuole un coraggio terrificante terrificante a maggior ragione di quanto è stato esposto poco fa cioè tenendo conto di tutte le variabili come si fa eppure ci sono delle carte intestate che vengono prese in considerazione e vengono portate avanti di personaggi che vengono ritenuti famosi oppure qualificati e qua c'è un problema di carenza di base anche dei legislatori alcune cose andrebbero ben delimitate a professionisti ben qualificati e certificati in qualche modo grazie Pasquale del commento ti do perfettamente ragione però qui ti apro ti rilancio la palla da un'altra parte di chi è la responsabilità perché i veterinari si sono imposti nell'analisi degli alimenti e possono parlare anche di insetti forse perché altri ordini o altre società associazioni non al momento giusto non hanno fatto sentire la loro voce è colpa del nostro presidente è colpa il povero Marco anzi ne lo dice a tutte le primioni comunque non è un problema forse alla coda di paglia Pasquale no il discorso è io però riconerei una cosa in questo momento l'ordine nazionale dei biologi che non esiste più perché adesso è federazione ha fatto uscire l'albero delle professioni e nella professione del biologo c'è il biologo forense tra le specifiche c'è scritto esplicitamente oltre all'antropologia la tossicologia no la tossicologia non c'è scusate l'antropologia la genetica c'è scritto entomologia io adesso vorrei capire e su questo mi informerò in futuro cioè nelle prossime settimane perché vorrei raccontarlo anche ai miei studenti se a questo punto quanto scritto è approvato poi in sede ministeriale corrisponde poi a un'eventuale sanzione di chi millanta la professione per cui se Marco faceva l'esempio dei medici regali a cui voglio tanto bene ma potrebbe essere anche non so un agronomo mi dice faccio io l'entomologo forense se quanto stabilito dall'ordine e approvato dal ministero corrisponde una professione possa essere utilizzato come fanno i medici cioè io biologo non posso fare il medico può il medico fare il biologo quando questo appare realmente agli atti c'è una serie di documenti in cui questo è esplicitato quindi secondo me la responsabilità di aver lasciato spazio ad altri è una responsabilità di qualcuno che ci sia un vuoto normativo siamo d'accordo un po' meno nell'entomologia forense quella criminale quella che utilizzo su cui lavoro io e poi secondo me dovremmo rimpossessarci è una mia battaglia dei termini corretti continuare con questa parola parassita parassita i biologi sanno bene che cos'è anche i naturalisti un trogoderma non è un parassita un pidocchio è un parassita per cui anche nella normativa rimettere i termini corretti sarebbe molto meglio e vabbè qui però si apre una dialettica magari ne parliamo dopo magari ci attiviamo anche a livello poi ministeriale come società senti sono due domande da youtube una è di Matteo Galimberti che dice buonasera domanda scontata come si diventa entomologo forense e qui glielo spiegherai il secondo Giovanni Massa buonasera come avete preso il DNA dal sangue presente nello stomaco e una zanzara se ormai era rimasto solo le ossa io questa non la capisco la domanda ma te la leggo ugualmente se ormai era rimasto solo le ossa forse confonde la mia ma come si diventa entomologo forense ma come vi ho detto prima si diventa entomologo e quindi ci si appassiona il mondo dell'entomologia quindi i percorsi da fare sono quelli delle scienze naturali della biologia e quindi scienze agrarie io la vedo sono un po' di parte la vedo molto in termini biologici per quello che vi ho detto prima per quelle che sono adesso le richieste di sguardo tecnologico dell'entomologia forense poi si fa un affiancamento a qualcuno che lo fa già e quindi poi si comincia a camminare con le proprie gambe ci sono delle università italiane che fanno dei corsi per l'appunto di biologia forense che hanno anche dei corsi di entomologia forense io qui ho una nota che ho già detto più di qualche volta anche in accademia dobbiamo stare attenti noi come accademici abbiamo una grossa responsabilità che una cosa è insegnare qualcosa di molto teorico è una cosa è insegnare qualcosa di applicato la cosa applicata la insegni solo se l'hai già fatta difficilmente per me è impossibile fare una lezione sulla disinfestazione degli ambienti perché non l'ho mai fatta in vita mia quindi le linee teoriche si possono insegnare ma poi come si applica come si fa a parlare in un processo come scrive una relazione o l'hai scritta o non te l'hai inventi quindi questo è il percorso mi ricollego al discorso del DNA il DNA e la zanzara c'entra nelle scene fresche e il DNA che si trova normalmente è della persona che ha commesso il reato non tanto della vittima o la vittima e lo raccolgo rispondo anche a un'altra domanda che è stata fatta il DNA è utile solo se ha un DNA di confronto oltre a quello della vittima o quello del sospetto trovato nella zanzara devo avere anche quello della potenziale vittima o del sospetto quindi devo avere un database di confronto sarebbe bello avere la banca dati del DNA nazionale ma anche lì per motivi che secondo me sono veramente ridicoli non si vuole fare se uno non ha nulla da nascondere il proprio DNA lo dà più che volentieri tanto può essere stato anche per un'esclusione vedo comunque hai risposto anche all'altra domanda che era in chat che io mi era suggete va bene quindi hai dato una risposta complessiva sono qui a te in aula se c'è qualche domanda qui in aula magari se tutti perché la luce è fioca quindi va benissimo così va bene allora vedo che Rinaldo ti ringrazia anche lui allora niente possiamo forse chiudere qui la nostra conferenza siamo stati nei tempi in maniera perfetta non avevo dubbi vista la capacità anche organizzativa che è il nostro relatore odierno quindi diciamo continuiamo ad andare a volte nella nostra strada di conferenze di tipo divulgativo di alto livello secondo me come quello odierno che servono ad aprire la mente su quante potenzialità magari anche fra gli entomologi momenti di incontro di discussione e quant'altro quindi grazie vedo da tutti i colleghi che sono in presenza ringrazio anche tutto il pubblico che è qui ciao a tutti i ragazzi altri hanno il maglione arancione li ringrazio specialmente quello con il maglione arancione e allora buona serata a tutti e chi vuole rivedersela potrà trovarla comunque su youtube anche dopo non in diretta ciao Stefano ciao ciao ciao